Guardate che meraviglia, adesso entro in videoconferenza Tengo io a Melbourne, Australia, una conferenza Queste sono le mie slide Faccio una prova per vedere se il discorso regge E se l'audience mi segue Allora vado in Next E faccio scorrere le mie slide Va bene, queste slide parlano di HP Reveal Che è un'applicazione di realtà aumentata Che ti consente di sovrapporre qualsiasi video o immagine Sopra qualsiasi immagine che il tablet cellulare mobile scansiona con la fotocamera Usare HP Reveal È simile l'utilizzo di un lettore di codici QR Per ottenere le informazioni sovrapposte È necessario usare le app per Android o per iOS HP Reveal per scansionare l'oggetto Siete d'accordo? Oh bene Andiamo alla prossima diapositiva Next E vi volevo anche far vedere che le diapositive che faccio scorrere sono presenti anche sulla lavagna, sul proiettore Trovo che questa applicazione sia meravigliosa Benissimo Ora chiudo Ciao 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 Grazie.